Il commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, nel corso di una videoconferenza stampa ha fatto il punto sulle ordinanze approvate dalla cabina di coordinamento e che sono state appena emanate. Un lavoro complesso, in grado di imprimere un forte impulso alla ricostruzione del centro Italia, che già conta 2.600 cantieri privati aperti nei primi quattro mesi del 2021, mentre ne sono stati autorizzati già 9.546. All'incontro hanno partecipato i presidenti, gli assessori regionali e i rappresentanti dei sindaci di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Legnini ha illustrato nel dettaglio le ordinanze speciali in deroga per la ricostruzione dei centri storici di Amatrice, Camerino e Valfornace, delle scuole di Teramo, Ascoli Piceno, della Basilica di San Benedetto di Norcia, degli immobili pubblici del Comune e degli edifici Ater della provincia di Teramo. Ordinanze speciali che saranno firmate nei prossimi giorni. Teramo in particolare aspetta da anni di poter ristrutturare la sede storica del proprio municipio in Piazza Orsini, così come le migliaia di sfollati Ater di poter rientrare nelle proprie abitazioni di collaterrato. Nel corso della videoconferenza il commissario Legnini ha annunciato anche lo stanziamento di ulteriori contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici considerati di interesse storico, artistico e culturale. Attenzione particolare anche sulla nuova guida per l'utilizzo del superbonus. Ridisegniamo le regole per consentire una ricostruzione di qualità, accrescendo anche la contribuzione pubblica, dei beni culturali in questo territorio pregiatissimo dell'Appennino centrale, dell'Italia centrale. Parlo di edifici storici con ogni destinazione, delle chiese, dei conventi, delle ville storiche, dei palazzi storici e di altri edifici ricompresi nei borghi, nei centri storici delle quattro regioni colpite dal Sistema. E poi le ordinanze interroga, una novità, quella che riguarda la ricostruzione dell'università, degli edifici dell'università di Camerino, quella di Amatrice, del centro storico distrutto di Amatrice. Gli edifici residenziali pubblici nella città di Taramo e nella provincia di Taramo, le scuole 11 nella città di Ascoli, altri interventi in altri comuni delle Marche. E' un'ordinanza interroga per rendere più rapida, più spedita, la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Noccia. Il primo intervento dopo la relazione del commissario straordinario è stato quello del sindaco di Taramo, Gianguido D'Alberto, che ha parlato anche come presidente del Lanci. D'Alberto ha sottolineato l'importanza vitale di queste nuove misure, ma soprattutto della semplificazione. Un ringraziamento infine da parte di Legnini al ministro Mara Carfagna per l'approvazione del decreto con il quale si assegnano 60 milioni di euro per centri di ricerca e università nel cratere del centro Italia. Per Legnini si tratta di un'iniziativa molto importante con la quale si attribuisce agli Atenei di questi territori, così duramente colpiti, l'opportunità di sviluppare attività di alta formazione e ricerca necessari per rafforzare il processo di rinascita sociale e culturale. Grazie.